benvenuti tutti al magnifico tempio di luxor uno dei monumenti più emblematici qui a luxor in egitto questo tempio si trova sulla riva est del nilo ed era una parte fondamentale dell'antica tebe una città che prosperò come capitale durante il nuovo regno il tempio di luxor è uno spettacolo mozzafiato non solo per la sua grandezza ma anche per la sua immensa importanza storica e la sua bellezza architettonica il tempio di luxor era dedicato principalmente alla triade tebana di dei amon il re degli dei sua moglie mut e loro figlio consu il dio della luna la costruzione iniziò intorno al 1400 tacetto sotto il regno del faraone amenofites e altri famosi faraoni come tutankhamon ramsest godo e persino alessandro magno aggiunsero nuovi elementi al tempio ramsest godo uno dei sovrani più potenti e celebri dell'egitto e resse il grande pilone d'ingresso che si erge ancora oggi decorato con scene che raccontano le sue vittorie militari inclusa la famosa battaglia di kadesh una delle caratteristiche più impressionanti che vedrete all'ingresso è l'obelisco altissimo in origine c'erano due obelischi qui ma uno fu portato in francia e ora si trova in place della concorde a parigi l'obelisco rimanente si innalza per oltre 20 metri e testimonia le abilità tecniche degli antichi egizi all'ingresso troverete anche statue colossali di ramsest godo che sottolineano la sua autorità e il suo legame divino attraversando il massiccio pilone noterete che la disposizione del tempio è piuttosto unica a differenza di molti altri templi egizi che sono allineati in un'asse est ovest il tempio di luxor è orientato lungo un'asse nord sud questo allineamento particolare è collegato alla processione della festa di opet un evento religioso importante nell'antichità durante il festival le statue di amon mut e consu venivano trasportate dal tempio di karnak al tempio di luxor riaffermando il legame divino tra il re e gli dei e il rinnovamento del suo potere ora passiamo al grande cortile di ramsest godo questa vasta area aperta è circondata da colonne gigantesche ogni colonna è decorata con geroglifici e scene che raccontano storie di rituali divini sacrifici e celebrazioni la maestosità di questo cortile era progettata per impressionare e ispirare timore a tutti coloro che entravano in particolare ai dignitari e ai pellegrini in visita addentrandoci nel tempio arriviamo alla colonnata costruita da amenofite treessa questo lungo corridoio è fiancheggiato da 14 colonne giganti a forma di papiro che simboleggiano la vita e la creazione le pareti sono decorate con incisioni molte delle quali mostrano il festival di opet e altre attività cerimoniali i dettagli di queste incisioni offrono un inestimabile sguardo sulle pratiche religiose e le cerimonie reali dell'antico egitto proseguendo entriamo nei santuari interni dove solo sacerdoti e faraoni potevano accedere queste stanze ospitavano le statue sacre degli dei e qui si svolgevano i rituali più segreti il sancta sanctorum situato nel cuore del tempio custodiva la natua di culto di amon qui avvenivano i rituali più importanti rafforzando il legame divino tra gli dei e il faraone il tempio di luxor non è solo un antico tempio egizio ma un monumento che riflette strati di storia che si estendono per migliaia di anni nel corso del tempo questo tempio ha visto l'influenza di diverse culture e religioni ad esempio durante l'epoca romana alcune parti del tempio furono trasformate in un accampamento romano più tardi in epoca cristiana fu costruita una chiesa all'interno del complesso del tempio e fino a oggi esiste una moschea attiva la moschea di abuel haggag ancora in funzione questo tempio è quindi una testimonianza delle diverse civiltà che sono passate attraverso l'egitto ognuna lasciando il proprio segno su questo luogo sacro il tempio ha resistito agli elementi naturali al passare del tempo e la sua conservazione ci permette di tornare indietro nel mondo antico prima di concludere questa visita prendetevi un momento per ammirare la grandezza e la bellezza del tempio di luxor non è solo un capolavoro architettonico ma anche un simbolo vivente dell'importanza religiosa politica e culturale dell'antico egitto camminare attraverso le sue sale è come viaggiare nel tempo connettendosi alla grandezza e ai misteri di una delle più grandi civiltà della storia